L'atmosfera e l'acustica di una tenda non erano certo quelle più congeniali ad accogliere leader classici di Beethoven, Brahms e Berlioz, come pure, d'altra parte, gli stessi brani del musicista siciliano che già da qualche tempo a questa parte insegue con profitto una poetica che tende a svincolarsi dalle restrizioni di tempo imposte dagli schemi tipici della canzone. Come mai hai abbandonato le percussioni che pure fanno parte della tradizione ritmica orientale? Per adesso, ecco, diciamo che in questo concerto non sono state previste e non mi dispiace per adesso. Durante le prove, Battiato appariva seriamente preoccupato per l'eccessiva dispersione del suono, ma alla fine tutto è andato per il meglio e un pubblico nutrito ed entusiasta, ha potuto ammirarlo ed applaudirlo. Antonio Ballista, una antica presenza accanto a Franco Battiato, fin dagli anni settanta partecipato ad esperimenti di musica classica con lui, è ritornato in quest'ultimo disco. Come mai? Come mai? È stata un'idea di Franco che ha unito in questo disco, accanto a delle sue canzoni nuove, anche i quattro leader. Per cui, in un certo senso, era un po' inevitabile che mi chiamassi sia come pianista che come direttore d'orchestra, avendo noi collaborato molto tempo insieme. Naturalmente soprattutto per la parte classica. Accanto ai brani contenuti nell'ultimo album, come un cammello in una grondaia, le rivisitazioni di vecchi successi, arrangiati in maniera sinfonica, per non deludere le aspettative degli estimatori più affezionati del cantante. Parli spesso di una sacralità legata al rito. Perché è importante essere sacri? Che cos'è che tu ritieni veramente eterno? La sacralità è la possibilità di essere delicati, sottili e più sottili si è nella vita, più si raggiunge, secondo me, la verità.